Bene, sciocchi, quanto lo devo per questo tè? Mi scusi signor veleno, vado un attimo a controllare una cosa, se non mi risponde giuro che l'ammazzo. Eccolo, eccolo, io lo so, non mi risponde, guardalo, 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 voglio rida, anche Daniel, Daniel, Daniel risponde, eh, chiaramente non mi doveva rispondere, bene Lorenzo siamo io e Gio, allora, parliamo del signor veleno, mi deve 12 euro, 12 euro di te, Ma è un prezzo più che giustificato, perché io comunque allora ci ho messo, calcoliamo obiettivamente, l'acqua, l'acqua è pure evaporata, ci ho messo il tè e ci ho messo il limone, credo di averci spremuto a un'intera fetta, no, allora, io gli posso andare a chiedere 12 euro, ma innanzitutto, gli chiedo dei soldi o non gli chiedo, è comunque un cliente, però in questo caso, eh, ma che signor veleno? Ma se metti caso che io adesso entro, gli chiedo dei soldi e a lui non va bene, perché magari poi viene fuori che è un prezzo troppo alto o peggio, troppo basso. Allora, la questione è la seguente, potrei farlo pagare all'ingrosso, perché calcola Lorenzo, se io ci metto il costo dell'acqua grezza però, no, di quella evaporata, eh sì, se no il cazzo, allora potresti prendere il costo proprio dell'acqua iniziale che ho utilizzato, Ci aggiungo un costo approssimativo del limone che ho utilizzato, in tutto questo, mescolo anche, chiaramente, l'IVA e gli interi... Allora, e la facciamo. Andiamo, quanto le devo? Avrei una certa fretta? 2 euro, 3 euro. Conoscendola, questi sono i suoi prezzi, eh? Signor veleno, ma si figuri! Già, sciocchi, mi dica quanto è? Non voglio fare lo scroccone, quindi, forza, pago io, stavolta, non c'è nessun problema. Ehm, 80 centesimi. Centesimi? Vuoi far pagare il prezzo d'ingrosso? Ehm, eh, beh, dopo tutto neanche contribuito all'acquisto dei prodotti, quindi... Avanti. Allora, ho sponsorizzato un evento nel suo bar a 200.000 euro poco tempo fa. Eh, lo so. Pensa che non sarei in grado di permettermi un tè al limone proposto al suo menù? Vediamo quanto può costare, 3, 4 euro gli ridò, non si figuri, non c'è questo problema. No! Allora Lorenzo, no, senti ragiona. Se io adesso gli rivelo veramente qual è il costo di quello che è presente nel menù, succede un casino, che poi va a finire, che dopo magari lui vuole abbassare i prezzi, e ma non solo per lui, non solo per lui, per tutti i clienti, sempre, ogni giorno. No, allora, se io non sei il più grande venditore della storia... La verità, signor Veleno, è che dietro alla realizzazione di questo tè c'è del sudore. Il sudore di chi ha vissuto con passione nelle proprie piantagioni, ha coltivato questo tè per tutta la sua vita, isparso a chissà dove. E la dolcezza e la delicatezza dello scorrere dell'acqua scaturito dalle sorgenti. Non posso crederci, ha ancora suo teatrino commerciale. Molto di più. Quello che io le sto raccontando è la storia di un prodotto che ha origini ben più lontane e più grandi di quanto lei possa immaginare. Un tè di origine brasiliana, un'acqua proveniente dalle sorgenti svizzere e del limone che arriva direttamente dall'Asia. Sapeva che il limone è originario dell'India Indocina? Oddio, ciò a chi la prego, devo andare. Quello che lei non riesce a capire è che in questo momento lei ha appena assaggiato una pietanza che ha al suo interno il sapore di tre continenti. Mescoliamo un aroma proveniente da etnie diverse. Sì, sì, sì. Ricky! Oh, dove cazzo eri? È tutto il giorno che ti ti aff... Bene, ascolta, ho il signor Beleno qui nel bar. Allora, ha preso un te. Allora, è venuta fuori questa questione. Sì, lo so che costa 12 euro. Ma cosa vado a dirlo a lui? Cazzo, adesso cosa gli dico? Eh! Signor Beleno, aspecci! Riccardo, smettila! Mi devo... No, dai, dai, ti prego, dammi una mano. Se ne sta andando, che cazzo gli devo dire? Io! È colpa tua! Scusa, se te non mi chiamavi, io non glielo dicevo. Quindi prenditi le tue responsabilità, vieni qui e dammi una mano. Signor Beleno, aspetti! Scusa, se te non mi chiamavi, io non glielo dicevo.